Ciao Carl, ciao Carrie! Giornata spaventosa oggi! Buon Halloween! Sembra proprio siate pronti per la grande festa di Halloween. E scommetto vorreste uno di questi deliziosi cupcake. Non è vero Carl? Hai addosso un po' di briciole. Dall'altra parte... Oh, ce l'hai fatta! Oh Carl, a qualcuno serve il tuo aiuto. È meglio che tu vada a casa subito! Si tratta di Ben. È già tutto vestito per Halloween. Ma che cosa stanno facendo al cantiere? Oh, stava raccontando storie di fantasmi ai piccoli. Ehi, ma che cosa è stato? Oltretutto guarda, l'ascensore si muove da solo! Oh, non possono nemmeno prendere l'ascensore, sono bloccati! Carl, puoi intervenire e fare qualcosa? Ehi, ehi, eccoli là! State fermi dove siete! Il super camion è qui per aiutarvi! Ben, senti ancora dei rumori! Super camion, dobbiamo fare in modo che bene i piccoli se ne escano dall'ascensore il prima possibile! Hai qualche idea su come risolvere questo inghippo? Un super camion da trasporto! Fantastico! Ma qualcosa! O qualcuno sta arrivando con l'ascensore! Oh, l'ascensore ha quasi raggiunto questo piano! Veloci, piccoli! Andiamo! Ah! 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 Ehi, 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 è un vampiro vero! Super camion da trasporto! Fai qualcosa! Il paracadute ST3000! Ottima pensata! Veloce, Ben! Salta! Ah! 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 Oh, ma dopo tutto non è un vampiro! È solamente Jerry con il costume di Halloween! Ah! Ah! Grazie per il tuo aiuto oggi, Super camion! Questo è stato l'Halloween più spaventoso! Ecco, piccoli, prendete un po' di succo e un po' di cupcakes! Mi sembra abbastanza eccitazione per oggi! Che ne vado? Felice Halloween! Oh, giusto! Oggi a Car City è la giornata dello sport! Oggi a Car City è la giornata dello sport! Oh, bel tiro, Edna! Oh, penso questo faccia male! Oh, no, Jerry! Che c'è che non va? Burgo con la palla ha compromesso il tuo impianto! Davvero non puoi fermarti? Oh, no! Ciao, ragazzi! Vi muovete alla grande! Vi posso rubare, Carl, per un momento! Carl, Jerry è fuori controllo al parco! Non riesce a fermarsi! E sembra che possa andare a sbattere! Ci puoi aiutare! Ma che cosa stai pensando, Super Camion? È vero! Ti serve qualcosa per ogni tipo di terreno! È qualcosa per il fuoristrada, è ovvio! Ciao, ragazzi! Jerry, il Super Camion è qui per aiutarti! Ma, Jerry, come farai a fermarti? Super Camion, lo devi assolutamente fermare! Cercherai di andare dritto e di azionare i freni! Ma è un'ottima idea! Ma è troppo veloce! Super Camion, è meglio che tu gli stia dietro! Jerry, il ponte è proprio davanti a te! Non puoi andare da quella parte! Che cosa? Non riesci a sterzare! Super Camion, fai qualcosa! Jerry sta andando proprio contro il ponte! Super Camion, che stai facendo? Stai andando dalla parte sbagliata! Stai cercando di usare l'airbag per prenderlo dall'altra parte! Oh, questo potrebbe funzionare! Sì, Jerry, per fortuna stai bene! Però, le tue ruote continuano ad andare! Come possiamo risolvere il problema? Wow, sembra che sia tutto risolto! Sono felice che tu stia bene! Ah, grazie per averlo aiutato, Carl! E grazie per averlo aggiustato, Walter! Anche se è stato un incidente! Jerry, devi comunque farti dare un'occhiata a tutti i circuiti! E ora, ragazzi, prendetevi la comoda e godetevi il resto della giornata degli sport! Ma che bella giornata! Tutti quanti stanno giocando! Ehi, sembra una cosa molto divertente! A qualcuno serve il super camion! Veloce! Wow, Walter è un grande fan di Dora l'esploratrice! Così si è vestito tale e quale a lei! Avrà sicuramente un bel po' di attrazioni da visitare! Ma mi domando che cosa stia cercando! E allora andiamo alla spiaggia! Potrebbe occorrere aiuto durante l'esplorazione! Ma che bel vestito, Walter! Ehm, Dora! Oh no, la strada è bloccata! Puoi aiutarci, super camion! Puoi aiutarci, super camion! Sì, è un super mega camion! Wow! La strada è pulita! Andiamo d'ora! E' una grandiosa idea! Vedrai molto di più dall'alto! La! La X sicuramente significa che il tesoro deve essere là! Fai attenzione, Dora! Stai per cadere! Super camion, fai qualcosa e velocemente! Oh no! Sì, per fortuna ci siamo! E abbiamo anche trovato il tesoro! Così è questo il tesoro! Ma è bellissimo! Super camion, questo è un regalo da Dora! Ciao a tutti quanti, amici miei! È una giornata bellissima, piena di sole, l'ideale per lavorare i campi! Che ne dici, Babson? Oh no! Questa bottiglia vuota è come una lente di ingrandimento! Può dare inizio a un incendio! Carla, c'è un incendio alla fattoria! Devi andare là, velocemente! Oh no! Il fuoco si è espanso! Super camion, quale trasformazione sceglierai? Qualcosa che possa controllare il fuoco! Ma certo! Eeeh, aha! Bebs, sei al sicuro adesso? Puoi allontanarti dal fuoco! Oh no! Super camion, hai finito l'acqua! Eureka! Guarda, super camion! Puoi riempirti di nuovo di acqua là! Ma che è successo, Bebs? Non riuscite a trovare Ben? Ma dove sarà mai? Eccolo lì, Ben! Sta dormendo! E non si sta minimamente rendendo conto del fuoco intorno a lui! Super camion, Ben è dentro il labirinto! Ma non sappiamo dove sia esattamente! Devi localizzarlo molto velocemente! Sì, è tempo di usare l'ST3000! Vai avanti super camion! Vai avanti super camion! qui bene dietro questa siepe rotonda ma è ancora addormentato e le fiamme sono tutte intorno a lui ben svegliati c'è un incendio andiamo via da qui velocemente c'è mancato poco e poteva essere una tragedia grazie super camion hai salvato la giornata oh guardate un po lì succo d'arancia ghiacciato grazie super camion tu sei il nostro più grande eroe un po di pallavolo sono abbastanza sorpreso non stiate facendo niente per il giorno dei pirati ma aspetta vi siete dimenticati sembra stia succedendo qualcosa è meglio andare a dare un'occhiata è il giorno dei pirati penso proprio che ember abbia preparato una caccia al tesoro per i piccoli sembra proprio che non riescano a trovare il tesoro è meglio che tu li aiuti dopo tutto festeggerai anche tu il giorno dei pirati e i piccoli il super camion è qui per aiutarvi a trovare il tesoro ma che cosa intendi vuoi dire che non è pronto è per te super camion grandioso ma penso proprio ti serva un'altra cosa per essere un vero pirata e ora coraggio tira fuori il tuo migliore arrrr wow proprio come un vero pirata e ora troviamo il tesoro esatto una trasformazione ci aiuterà oh se fai un bel salto puoi vedere tutto quanto dall'alto dai coraggio sì esatto non c'è nessun tesoro piccoli avete guardato dentro il tunnel ma cosa state facendo dovreste cercare un tesoro oh capisco volevate avere un'ottima vista piccoli ma avete guardato dentro scuola ember puoi stare in disparte per un attimo oh no ci serve qualcosa per raccoglierli sei arrivato al momento giusto water puoi aiutarci con questi oh ma che cosa ci farai esattamente oh sono monete di cioccolata adesso che cosa farete con questo tesoro volete fare un'altra caccia al tesoro ma dove avete intenzione di nasconderlo ok lo troveremo la prossima volta grazie a tutti